C'è Moro, il senatore Moro del Movimento 5 Stelle che sta facendo una dichiarazione. ...a poter scegliere con consapevolezza una nuova classe rappresentante che vada a sostituire questa partitocrazia che anche oggi ha dato pessimi segnali. A me è bastato osservare con attenzione il volto di molti colleghi del PD e già questi segnali erano chiarissimi per giudicare l'inconsistenza intanto del programma che è stato proposto. Ma ho difficoltà anche a definirlo programma. Come risponde alle parole di Renzi che ha ricordato le frasi di Grillo io non sono democratico e poi le sconfitte elettorali? Bene, Grillo ha detto io non sono democratico con te, il che è un'altra cosa e noi siamo sempre di fronte alla mistificazione dei fatti. Se poi si reputa che sia una straordinaria vittoria elettorale poter vincere con circa la metà degli aventi diritto che si astengono dal voto, benissimo. Prendiamo atto di ciò evidentemente l'idea di democrazia di Renzi è un'idea di democrazia elitaria per cui pochi, magari in alcune stanze, magari anche pregiudicati, scelgono per gli altri. La nostra idea di democrazia è ben diversa. Come giudica l'intervento? Come ho detto vuoto, inconsistente, debole, fragile. Proprio come posso dire? Volevo toccare qualcosa, ho avuto la possibilità di stringere il vuoto, il nulla. Prego.